e quello che vi devo dire è ok sono le 7 di mattina ho chiuso la valigia volevo fare una intro molto più lunga ma questa mattina ho avuto una crisi a livello di outfit quindi mi sono cambiata 6 volte e non ho avuto il tempo di fare meglio questo intro because I'm a very bad youtuber valigia grande uguale grande viaggio non vedo l'ora di raccontarvi tutto quindi facciamo partire l'intro and let's get started ok raga I'm walking sono a Milano ovviamente dal titolo di questo video potete capire che sto per partire sto per fare un super viaggio devo andare in agenzia perché devo fare un lavoretto quindi appena finisco perché oggi sarà una giornata un po' più complicata rispetto a domani come torno a casa vi spiego tutto è già la quarta volta che lo dico però I promise that I will tell you everything colore proprio non adatto per questo tempo però whatever so come mai sono così contenta di questo tempo ma ragazzi da Nordica mi mancava il tempo milanese questa giornata è stata intensa impegnativa ma come ogni giornata che passo a Milano mi manca questa città da impazzire è bello poter sentirsi a casa anche se non vivo più qua cioè Milano veramente ormai she's my bitch di letta arriverai mai al punto? si ragazzi si perché quello che vi dirò I cannot wait to share that with you guys devo solo condividere come mi sentivo qua a Milano perché adesso sto aspettando questo autobus I miss the city so much io vedo l'autobus poi io sono una che a Roma evita di prendere l'autobus perché non arrivano mai puntuali anzi cioè se arrivano gli faccio pure i complimenti il fatto che sia sempre in orario tutto qua a Milano per una come me che è psicopatica per il tempismo e per l'anticipo oh mio dio sono queste le cose che mi rendono felice sempre un po' di inquinamento acustico vabbè devo fare l'intro ufficiale perché altrimenti non ha senso questo video yo 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 crazy people bentornati sul mio canale il mio nome è Didi e vi do il benvenuto in questo nuovo video letteralmente sono un po' confusa perché l'ultimo viaggio importante che io ho fatto è stato nel 2019 e lo sapete perché vi ho portati con me e quello che vi devo dire è perché sono qua a Milano perché domani mi aspetta un aereo sperando di prenderlo perché ovviamente ci sono un po' di sopra e quindi fingers crossed mi aspetta un aereo per andare a Londra e passerò una settimana a Londra e poi mi sposterò oltre oceano ancora non sto metabolizzando ma dopo due anni torno dall'altra parte dell'oceano e con l'altra parte dell'oceano io parlo proprio dell'America quindi sono qua per annunciare finalmente che this bitch is going back to the states per il mese di luglio le mie tappe ufficiali saranno Londra, New York and LA baby mi sembra di ritornare alla DD del 2019 che era in giro all around the world ancora non ci credo che torno in America dopo così tanto tempo e soprattutto ritorno nella mia New York e dopo New York mi aspetterà Los Angeles e la vera domanda è perché vai là? come mai queste tre tappe? da ora in poi ho capito che il mio modo di viaggiare è sempre attrittico sono qua per dirvi che ovviamente io vi porterò con me dall'inizio alla fine e non vedo l'ora finalmente di riportare dei contenuti su questo canale che riguarda il travel perché una delle cose che io amo fare di più è viaggiare e sono qua per annunciare questa cosa perché questo video uscirà domani e io in questo momento sarò già facendo un altro vlog di partenza però sarò in viaggio verso Londra ovviamente sperando che vada tutto bene adesso vi porto con me in giro per Milano così vi riesco a raccontare il perché, il per come e come mai io vado via per tre settimane cosa farò quindi let's talk negli ultimi mesi ho condiviso spesso un bel po' di video in cui ero a Milano tra vari eventi comunque per lavoro tornavo spesso facevo questa cosa tra Roma e Milano e quindi insomma negli ultimi mesi ho riscoperto un po' le mie radici con questa città e l'ultima volta che sono venuta a Milano ho avuto una riunione con un'associazione con cui già dovevo collaborare che si chiama MLA manda i ragazzi a fare delle vacanze studio la cosa divertente è che all'inizio doveva essere una semplice collaborazione l'ultima volta che sono venuta qua a Milano mi hanno annunciato che saremmo partiti insieme magari alcuni di voi hanno già viaggiato con MLA però io sono tragasata perché vi giuro non ci credevo nel senso che mi hanno proprio annunciato sì sì guarda di via partiamo non solo in una destinazione ci facciamo tre destinazioni in praticamente tre settimane rispetto alle altre esperienze che io ho fatto e che ho condiviso con voi non sarò da sola perché girerò sempre con un gruppo di persone ci aggregheremo a dei gruppi che già sono partiti infatti io mi sa che partirò domani addirittura con un gruppo di studenti di ragazzi quindi magari ragazzi è possibile che domani partiremo insieme io avrò modo di rivivermi la vita da non lo so da studentessa da college care perché sono a Milano perché io parto da Malpensa domani mattina e quindi sono fissa dalla Mel che mi ospita gentilmente e poi domani mattina parto adesso mi sto vedendo in centro a Milano perché la cosa bella di aver studiato qua è che comunque non posso lamentarmi perché ho veramente tantissimi amici vi dico solo che ieri sono scesa dall'autobus ho rincontrato una mia ex compagna di università adesso ci spostiamo a Moscova e poi vi racconto il resto effettivamente sono anche contenta di andare un po' in giro per il mondo di nuovo perché è bello fare i vlog nelle altre città perché tipo adesso sono in centro e quindi mi sento un po' non dico in imbarazzo perché io non è che sono una che si vergogna infatti mi sono messa qua nell'angolino c'ho un'ansia per domani perché ovviamente spero di aver fatto tutto quest'ultima settimana io sono tornata dalla Puglia per chi mi segue su Instagram ho partecipato a un festival pazzesco ho avuto l'occasione e l'onore di parlare con Edward Norton Matt Dillon vabbè più ne ha più ne metta cercherò di fare il meglio e comunicare in qualsiasi piattaforma penso che la principale sarà Instagram quindi se volete viaggiare insieme a me eccomi trovate sicuramente on Instagram già volevo nascondere in realtà le destinazioni cioè volevo dirvi solamente di Londra però poi ho detto no I cannot you know keep a secret from my crazy people ho avuto un po' d'ansia in questi giorni semplicemente perché mi sono dovuta fare l'esta quando sono tornata a Verona mi sono dovuta prendere il passaporto che meno male panico perché ho detto mio dio è scaduto non è scaduto e poi soprattutto la cosa più difficile è stata organizzarsi la valigia perché comunque è vero che sono tre settimane ed è vero che farà caldo però tipo per esempio in Inghilterra alla sera fa fresco però ragazzi io non ci credo che dopo due anni finalmente torni in America cosa di cui sono anche casata è che comunque sto andando senza amici sto andando comunque da sola voglio portare anche tutta l'esperienza del viaggiare all by yourself quello che farò adesso è godermi la mia bella Milano che mi manca ed è sempre un onore per me poter tornare e niente poi andiamo a casa dalla Mel sono dietro la Yulm adesso tornerò a casa e diciamo che inizierò a farmi la doccia mi preparo già mentalmente per domani tra l'altro mi metterò ad editare questo video che state vedendo mi sono fatta aiutare da mia cugina perché volevo fare delle foto diciamo per documentare la partenza mi piace ogni tanto riportare il gioco che facevo con voi durante la quarantena quindi se arrivate da questo video commentate con un ananas così capisco che siete le crazy people che arrivano dal tubo ma pronto ragazzi it's the moment has come io sono with Melissa everyone siamo devastate letteralmente siamo un tutt'uno con il ventilatore e siamo entrambe siamo chiuse in cucina da tipo un'ora e stiamo lavorando the first time that we are working together tra l'altro sto editando questo vlog sorry that was good you're a good girl? yes I'm good e poi diciamo che stiamo lavorando al 100% perché dopo cos'è che dobbiamo fare? ASEANOO un'americana che parla corsivo no no you should not just get an idea for me siamo festeggiato ieri the fourth of July yeah abbiamo mangiato le pannocchie corn e il mac and cheese ovviamente tipo versione gluten free because I'm celiac celiac living bitches you know it's like it's not a choice it's a lifestyle totally agree with that e ci stiamo sparando 86 albicocche cioè letteralmente è la piena but at least we're healthy ok crazy people sono devastata sia da questo caldo che da tutto quanto quello che dovrà succedere domani questa qua è la mia valigia giga ho dovuto ovviamente prendere quella gigante perché tre settimane tre destinazioni diverse celiac ho concluso la valigia è stato tragico trasportarla da Roma a Milano diciamo che ho sempre decido sempre di complicarmi la vita però whatever so che è stato un vlog un po' così ma in realtà la mia vita in questi giorni è stata un po' così quindi penso sia la rappresentazione letteralmente di quello che sto vivendo in questi giorni sono carica sono gasata adesso mi metto a caricare questa vlogging camera perché avrà un lavoro fondamentale per il prossimo periodo raga grazie per essere stati con me ripeto io cercherò di essere all over the places condividerò il più possibile on youtube quindi cannot wait to do that ci vediamo sui social nel senso che io pubblicherò cercherò di essere active as fuck io spero già di pubblicarlo un altro domani we'll see what happens non faccio promesse perché dipenderà tutto dal wifi cosa facciamo e oddio il jet lag dovrebbe essere abbastanza chill dal momento che si parte alle 11 quindi non mi posso lamentare mi sveglierò comunque alle 6 perché ho l'ansia però vabbè io vi aspetto sempre qua sul tubo on insta non vedo l'ora si riparte quindi da la mia bella Milano è tutto io vi mando un bacio e vi saluto con un thank you guys for watching and see you guys very soon I love you bye bye Grazie a tutti.